Io ho già dato un contributo incredibile per l'allestimento della nostra Marimacchia 64-65 nel Chiostro di Santa Chiara, la progettazione è proprio per il FIOF e mi piace dare un momento in mano all'anno. Buonasera a tutti voi e in realtà hai detto tutto, nel senso che il FIOF nasce vent'anni fa, il Fondo Internazionale per la Fotografia con lo scopo appunto di valorizzare la fotografia, l'immagine, i ricordi, la memoria in tempi insospettabili. Quattro anni fa con il Ministero della Cultura, quindi con il Ministro Franceschini abbiamo sottoscritto e redatto il piano strategico sulla fotografia e guarda caso già quattro anni fa in tempi insospettabili si parlava della valorizzazione degli archivi privati e pubblici e soprattutto della promozione. Il Covid ha accelerato un processo e guarda caso l'Europa e quindi conseguentemente anche l'Italia ha fatto investimenti importanti proprio sul fronte della digitalizzazione e in questo caso dobbiamo ringraziare in modo particolare la tua collaboratrice Chiara che ha reso possibile la digitalizzazione di quelle opere che poi subito dopo avrete il modo di vedere. Usiamo immaginare l'utilizzo delle immagini, delle mostre cercando di contestualizzarle in luoghi particolarmente storici come in questo caso qui all'interno al chiosco di Santa Chiara e quindi speriamo che questa cosa possa essere apprezzata e speriamo che sia l'inizio di un percorso importante per la nostra Puglia, Bari ma soprattutto per l'intero meridione. Vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie